Capo, c'ho un'idea per far più soldi. Mmm, me lo posso immaginare. Tranquillo. Sì, tranquillo. Prego. Senta, posso avere la password del vostro wifi, per favore? Prima devi ordinare del vino. Ok, un montefalco russo. Ecco a lei. Ora, posso avere la vostra password? Prima devi ordinare del vino. Tutto minuscolo e senza spazi. Volevo fare boss. Volevo fare boss. Dottore, io sono qui per mia moglie. Ho paura che sta diventando surda. Non mi sente mai la prima volta e le devo ripetere sempre le cose. Allora, lei prova questo sistema. Va a casa e da una certa distanza chiede qualcosa a sua moglie. Se non risponde, si avvicina un paio di metri. E ripete la domanda. Fino a quando non risponderà? Va bene, dottore. Farò così. Quella sera a sei metri dalla moglie. Cara, cosa hai preparato per cena? A quattro metri dalla moglie. Cara, cosa hai preparato per cena? A un metro dalla moglie. Cara, cosa hai preparato per cena? Ma è la terza volta che lo ripeto. Il pollo con le patate. Il pollo con le patate.